E' stata pubblicata l'ordinanza numero 6 che dispone per il termine di 14 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della stessa ordinanza, ovvero sino a diverso provvedimento, le seguenti misure restrittive per i comuni di Pescara, Spoltore, Francavilla al Mare e Montesilvano. Il divieto di ingresso è uscita dal e nel comune, eccetto che per caso comprovato le esigenze lavorative da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Il divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici e in prossimità degli esercizi commerciali e rigoroso rispetto delle regole vigenti sul condigentamento d'ingresso in tutte le attività commerciali. Per i comuni di Gesso Palena, Torrevecchia, Tiatina, Carsoli, Pianella, Bucchiani, Giulianova, la sottoposizione a monitoraggio intensivo, dando mandato alle ASRA territorialmente competenti di dare notizia tempestivamente al Dipartimento Sanità sugli esiti di detto monitoraggio, qualora i parametri sui indicati suggeriscono l'adozione di misure restrittive a livello comunale. Infine, la conferma del monitoraggio intensivo per il comune di Chieti.